A fare mie l'inferno, tu me la pagherai! Qua, compasino, venite a tempo. Io voglio, per forza o che la muorevo, dentro di man, sposar la mia Rosina. Avete inteso? Eh, fuori di te benissimo. Ma è appunto io che veniva ad avvisarti. Ma, segretizza, è giunto il conte d'arma viva. Chi? Il cognitomante della Rosina. Appunto quello. Oh, diavolo, appoggiamo il ribellito. Ma che ha detto, ma... Alla sordina, sarebbe a dire, così con buona grazia bisogna principiare a diventare qualche favola che al pubblico lo metta in malavista. Che compagno faccia, o non aveva fame, l'anima perduta. Io, io mi servirò fra quattro giorni, credete a me. Ma Sirio me lo giura, voglio fare un'azologgiare da questa è ora. E voi credete... E voi credete... Oh, certo, è il mio sistema. E non sbaglia. E vorreste... Oh, la calunnia. Ma dunque la calunnia forse... Voi non sapete... No, davvero... Oh, no! Non ditemi... E non c'è... E te... E non c'è... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.